La Federazione di Luce, via Blasem-Gothkild, 26 luglio 2020, traduzione marina, b, ciao, benefattori divinamente deliziosi, la scorsa settimana, ho posto una domanda dopo che avevate detto che questa è la fine dei giorni bui sul pianeta Terra e abbiamo divagato, cosa che spesso facciamo, eppure, penso che sia una domanda che chiarisca alcune cose, quindi ve la riproporrò di nuovo, se posso, era, tutto può diventare così confuso, non è allora che quelli che scelgono di passare a una vibrazione superiore lo faranno, eppure, restano ancora sul pianeta Terra e quelli che scelgono di non farlo, rimarranno nella vibrazione inferiore fino a quando non saranno pronti a attraversare il ponte, e restare ancora sul pianeta Terra, fole, questo è così, quindi, non è la fine dei giorni bui sul pianeta Terra, se capite cosa intendo, fole, benvenuti a tutti, tutti voi esseri divini che state riuscendo nella vostra missione, mentre si muove più in profondità nel suo posizionamento che è programmato per questi giorni, siamo felici di chiarire questa domanda per voi se possiamo, b, grazie, se qualcuno può, voi potete, fole, cominciamo affermando che quando diciamo che è così, questo è quello che intendiamo, tutto ciò che deve venire allo scoperto, seguito nel giusto tempismo con la più grande botta di energia del cambiamento che non potete, in questa fase, verosimilmente immaginare, e che trasformerà il vostro pianeta, b, ma non intendete che cancellerà letteralmente la lavagna, fole, no, perché questo non è il suo scopo, tuttavia, ciò che farà è sollevare tutto da dove si trova si ed e giace ora, in uno stato dell'essere molto più preferibile per tutti e per tutto, pertanto, poiché la vostra oscurità è stata spalancata, non può continuare a funzionare nel modo in cui è stato, non ci saranno movimenti sotto copertura perché il piano divino era e quello di liberare il vostro pianeta da questo tormento, liberarlo dalle sue catene, nel farlo, come lasciare andare un palloncino in aria, si solleverà da solo nelle altezze di un nuovo mondo, b, eppure, dite che ci sarà ancora una vibrazione inferiore che continua, fole, sì, perché anche se l'ondata di energia di luce e amore solleverà tutto, spetta ancora all'individuo ritrovarsi e camminare sui propri piedi per così dire, ulteriormente dentro a quella vibrazione più alta, questo è ciò che intendiamo per attraversare il ponte, alcuni, hanno ancora un bel po' di miglia davanti a loro per raggiungere il ponte, altri, non conoscono il ponte, alcuni hanno già un piede sopra, eccetera, è il viaggio dell'individuo, eppure, come abbiamo detto prima, nessuno deve essere lasciato indietro, non importa quanto tempo può richiedere, b, quindi, stavo, sentendo capendo, che forse ci sarà un divario, non è così, fole, parliamo in termini che possono aiutare, c'è un divario ora, non è vero, b, intendi in termini di coloro che credono a ciò che viene loro detto sui media ma in stream e quelli che non lo fanno, fole, sì, eppure, lo definiremo coloro che non capiscono ancora cosa sta succedendo, b, con rispetto, non credo che nemmeno quelli che sanno, capiscano cosa sta succedendo, abbiamo ancora frammenti di informazioni, in questa fase, nessuna prova solida, fole, eppure, le avrete, quando sarà, molto verrà sottolineato e vi stupirete tutti, e come abbiamo detto molte volte, sarà quando inizierà il sottosopra in piena regola, senti che il divario riguarderà coloro che seguono il percorso credendo in ciò che viene loro presentato sui media e quelli che invece non lo fanno, vero, b, non l'ho appena chiesto, in poche parole tutto ciò che il guscio contiene, sì, fole, tuttavia, ci mettiamo in gioco e diciamo che, ciò che sta per accadere nei vostri prossimi giorni, aprirà la verità di ciò che sta accadendo dietro tutto questo, coloro che stanno dalla parte della luce hanno continuamente, instancabilmente aperto la strada in modo che quando l'esposizione delle oscure notti viene presentata a tutti, cambierà il pensiero di coloro che sono innamorati del sistema di controllo, perché non ci saranno due modi per farlo, la prova di ciò che è la verità e di ciò che non lo è dovrà essere messa apertamente davanti a voi, non ci saranno domande sulla cospirazione, poiché sarà fornita la prova nella sua rappresentazione più alta, b, sembra molto speranzoso, mi sentivo già che ci sarebbe stata una divisione man mano che i giorni passano, fole, blasem, carissime anime, continueremo a completare la risposta, quando diciamo le vibrazioni più basse e più alte, di quelle in cui le anime scelgono di essere, per quelle che, attualmente, risiedono nelle vibrazioni più basse, sentiranno comunque gli effetti dell'onda, b, ancora una volta per chiarire, l'onda significa anche l'evento, ma non l'ascensione, fole, giusto, è solo, come diciamo, che devono camminare ulteriormente per attraversare il ponte, b, e il ponte ci porta alla vibrazione superiore, fole, sì, per tutti, sarà come una chiamata, una spinta vibrazionale che vi conduce ad essa, quindi, diremo che sì, i giorni bui stanno finendo, eppure, c'è ancora il percorso dalla vibrazione inferiore a quella superiore, b, qualcuno può prendere un autobus, fole, dipende dalla comprensione dell'individuo su come sceglie di arrivarci in quanto tempo, se uno non ha la comprensione della potente luce che è, non si sentirebbe a suo agio dall'altra parte del ponte, l'energia, la vibrazione, sarebbe troppo forte, b, vorrei continuare con questa domanda sul divario, molti affermano che sarà come se il mondo si dividesse in due, viaggi, fole, a cui risponderemmo, sì, il percorso lungo e quello breve per il ponte, b, questo è davvero abbastanza rivelatore per me, sono felice che voi lo diciate, tuttavia, alcuni parlano in modo molto diverso riguardo a chi sceglie di prendere i vaccini, muoversi verso la i, intelligenza artificiale, tutte queste cose, fole, e diciamo, se l'oscurità è sparita, come può essere, b, mi esce il cuore di fuori, coraggio blasem, quindi state dicendo, voi essere i saggi, state dicendo che non si arriverà a questo, fole, sì, lo diciamo, b, e l'avete detto molto forte, ancora una volta, avete il mio permesso di schiaffeggiarmi in faccia con un pesce bagnato, e se un'anima volesse percorrere quella strada, fole, e sacrificare la luce di chi è diventerà, tutte le cose sono possibili, tutte le cose, e gli esperimenti che hanno avuto luogo verso questo obiettivo sono certamente in movimento, ancora, vogliamo chiedere di accettare nei vostri cuori che la necessità per voi, ora, e di concentrarvi unicamente e animatamente sulla luce dell'amore, il potere, la forza che siete, al fine di ancorare la stabilità di cui siete capaci in questi giorni, per chi non è in grado, in questi giorni, che precedono, dovete cambiare tutto, ci sarà ancora tanta confusione perché per molti, alcune rivelazioni non sono state concettualizzate nei milioni di frequenze vibrazionali dell'anima, b, quindi, la divisione tra le vibrazioni più basse e più alte, non il buio e la luce, sento di aver bisogno di aggiungere, nei giorni a venire, full, infatti, la vibrazione inferiore non deve significare oscurità, è semplicemente una frequenza, frequenza che può essere elevata quando si comprende sempre più la loro verità, come abbiamo detto, b, questo è davvero incoraggiante, per la premessa di creare la nostra realtà, questo mi sta bene, alla fine della giornata, e con tutto il rispetto per voi, e intendo davvero che, non ci sono prove qui, in queste pagine, che voi siate la federazione di luce e che forse potrei semplicemente inventare ciò che sta bene alla mia mente, da un posto nella mia mente, nessuna prova, questo significa per me decidere, e sentire, la vostra verità e tutti coloro che leggono le vostre parole fanno lo stesso, conosco la mia verità e ciascuno deve conoscere la propria, ci si potrebbe chiedere perché ho messo questo all'improvviso, ed è difficile da spiegare, la telepatia è una cosa difficile da padroneggiare a questo livello, spero ho fiducia che dopo 15 anni con voi, di averlo fatto, eppure, come essere umano, c'è sempre la possibilità, sto inventando le cose buone nella mia testa per avere speranza, folle, vorremmo rispondere a questo, siamo consapevoli della tua esitazione nel mantenere l'ultimo paragrafo, in modo da non smorzare o mettere in dubbio la mente del lettore, vogliamo davvero che tu lo lasci dentro, per questi tempi, con tutto ciò che viene distribuito da molti percorsi diversi, si deve consentire alle anime individuali di seguire la loro verità, imparare a decifrare le loro proiezioni radar, per così dire, hai ragione Blasem, non ti abbiamo dato alcuna prova e come sai, non veniamo e non comunichiamo con te per provare nulla a nessuno, perché la verità sta in ogni scintilla divina e che conoscere la loro verità, e la loro prova, in questa nota, vorremmo anche ringraziarti, Blasem, per il tuo coraggio, anche quando senti quello di cui parliamo, di essere fuori dalla tua zona di comfort e di uscire dalla piazza, B, grazie per questo, mi fido di voi, mi fido di me, dovrebbe essere che nulla di ciò che dite accada, tutto quello che posso dire è, stavo seguendo il mio cuore, nel suo viaggio di verità, alla fine della giornata, se tutto, qualcosa o niente avviene come avete detto che sarebbe avvenuto, mi avete insegnato a essere chi amo essere, e dovrebbe essere che sul mio letto di morte, nessun evento, nessuna onda, nessun annuncio, niente di niente si ho cambiato, mi accontenterò comunque di come ho scelto di comportarmi nel mio atteggiamento nei confronti di tutta la vita, e ho voi White Cloud per ringraziare di questo, perché voi siete quelli che mi mostrano il percorso che ci collega alla nostra fonte divina, in gratitudine, in amore, io sono, e lo sarò sempre, Blasem Gohkild, io sono l'amore, io sono la luce, io sono la verità, io sono, traduzione Marina